Quel giorno era una giornata di sole, ma ad un certo punto la regina sentì... Un corvo? Ma no, regina, è solamente un'anitra. La regina stava passeggiando tranquillamente quando ad un certo punto... Anzi, regina, stai attenta! Dove? Lì! Un drago! Si stava avvicinando a lei. Allora la regina cominciò a correre disperata, ma purtroppo la gonda le si incastrò in una fece azzurra e... Strap! Regina, cosa fai? Piangi! Dai no! Dai no! Insomma, tutto andava a rotoli. Quando... Scusate, pronto? Sì, sì, intervallo. No, è che adesso c'è tanta gente che... Sì, mi puoi chiamare più tardi? Sì, grazie, sì. Ciao, 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 ciao. Secondo tempo. La regina gridava disperata, aiutatemi, porca di te, porca di te. Accorse il suo aiuto l'omino bianco. Ma a lei non piaceva e lo mandò via. E lui se ne andò, moccio, moccio. Ma ecco finalmente arrivare lui. Mister Muscolo. Lui era forte, sensibile, intelligente, insomma, tutto in uno. E tra i due, diciamo, piccino subito, intesa. Lei lo guardava con malizia. E smac, 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 smac. Ma irrompevano aggressivamente. Mastro lindo. And the last, but not the least, il capitano Nelson, accompagnato dai gemelli Johnson & Johnson. Il capitano Nelson sfidò il nostro Mister Muscolo. E... Bang, 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 bang. Meglio. Csss. Ma l'amore, scappiamo, svento. Dio, svento. Tutto ormai era vanish. Lui giaceva a terra. La sua fronte, scottex. Lui era bianco, pallido. Era più bianco non si può. Questa storia è finish. Grazie. 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 Grazie.